buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 29 dicembre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi oggi abbiamo un santo biblico diciamo così un santo particolare che appartiene al vecchio testamento è re davide re davide pastore re profeta poeta fece lui i salmi che sono una delle cose più belle dell'antico testamento veramente dei capolavori di poesia ma la storia di davide la conosciamo tutti a partire dal duello con golia poi davide bezzabea il tradimento diciamo così per quanto riguarda il rapporto con dio la riconciliazione e via dicendo insomma tutto quello che ci riporta il testo biblico e quindi passiamo direttamente alle previsioni del tempo oggi una giornata in prevalenza con cieli poco nuvolosi su tutte le marche salvo la presenza di qualche addensamento serale e temperatura massima registrata sarà di 16 gradi la minima di 11 gradi il sole questa mattina sorge alle 7.50 e tramonterà alle 16.32 e vediamo che il mare sarà leggermente mosso questo per quanto riguarda le previsioni e il tempo che cambiano poco rispetto alla giornata di ieri e allora apriamo i giornali a partire dal resto del carlino e vediamo l'articolo di apertura è un articolo inconsueto perché il giornalista che cosa ha fatto ha chiamato sei cittadini rappresentativi della città in diversi settori e ha chiesto che cosa pensate per il prossimo anno le preghiere per l'anno che verrà è il titolo che viene enunciato dai parcheggi alla salute dai traguardi sportivi alla conquista della silhouette gli auguri di sei fanesi doc sei fanesi veramente veraci ebbene ci sono degli auguri futili ma ci sono anche degli auguri sostanziali perché poi tutto fa parte del nostro vivere quotidiano e allora diamo un'occhiata che cosa ci aspetta per il 2026 ebbene uno dei personaggi più popolari è certamente rosa della cecca al secolo massimo pagnoni lo vediamo qui in questa foto molto espressiva diciamo così ebbene che cosa ci dice rosa della cecca se avete delle figlie come me cercate di farle sposare ha dichiarato per il resto ai fanesi del centro auguro di trovare il parcheggio e beh questo è un problema veramente pragmatico un problema reale che poi l'amministrazione comunale questa è quella che verrà dovrà risolvere vediamo anche l'augurio di simone di otallevi al così il voulon di fano ma simone ha una figura poliedrica insomma ne veste un po di diversi i panni di altri personaggi mi auguro di riuscire sempre a distribuire un sorriso un momento di spensieratezza che viene al chi per chi viene al carnevale ovviamente il voulon non poteva dire altrimenti donatella marchetti donatella marchetti la presidente dell'associazione adamo una delle associazioni più benemerite della nostra città in quanto assiste a domicilio i malati terminali quindi pensate che servizio svolge ebbene ovviamente donatella menchetti ha detto auguro a tutti per prima cosa la salute della cosa più preziosa giorgio gragnola presidente della fondazione carifano abbiamo bisogno di riscoprire le cose semplici i valori veri perché è tutto troppo complicato per la nostra testa e tutto si sta complicando sempre di più semplificare le cose e non sempre l'avvento della digitalizzazione riusci a perseguire questo obiettivo perché forse per qualcuno il computer è una cosa complicata va bene andiamo avanti alice pagliarini alice pagliarini un atleta sportiva un atleta esemplare per il 2023 per il coni di pesaro e urbino e le proposito ruota tutto attorno al campo dell'atletica zengarini a fano per l'anno nuovo spero di migliorare i miei risultati e fare grandi cose ha detto e a fano auguro che il nuovo impianto d'atletica venga bene e attiri tante competizioni importanti le potenziali ci sono gli interventi sono iniziati riprenderanno all'inizio dell'anno e quindi questo è una risorsa per la nostra città perché poi quando gli impianti sono veramente all'altezza della situazione all'altezza della qualità attirano tante persone funzionano tutto l'anno questo anche con un beneficio turistico nella nostra città ebbene ora giriamo l'argomento e vediamo questa questa intervista che ieri ha rilasciato alla stampa ha convocato una conferenza stampa il candidato sindaco giuseppe de leo de leo ha parlato di impianti sportivi ha parlato di sport perché anche lo sport fa parte importante per molti fanesi della loro vita quotidiana ci sono molti molti tifosi in modo particolare del fano calcio dell'alma juventus ma anche di tanti altri sport pensiamo per esempio al volley alla virtus e a tante altre squadre de leo alma due imprenditori in campo ebbene de leo ha detto per quanto riguarda la sorte della squadra di calcio che rappresenta la città una sorte che al momento non è tanto benevola e lui sarebbe pronto ad avere due nuovi imprenditori se il presidente russo lasciasse quindi due imprenditori che si farebbero carico delle sorti del fano calcio e poi ha parlato anche di impianti sportivi a fano necessita un nuovo stadio necessita un nuovo palazzetto dello sport e questo sarebbe uno dei suoi impegni più importanti nel programma che eseguirebbe se fosse eletto sindaco e poi abbiamo anche dei risvolti sul turismo abbiamo detto appunto lo sport è un attrattore turistico anche in bassa stagione per cui lui potrebbe così favorire la realizzazione se fosse sempre eletto sindaco di nuovi alberghi nei pressi di una cittadella dello sport che sorgerebbe nella zona di chiaruccia dove è situata anche adesso a livello urbanistico questa è un po' l'intervista che ha rilasciato il candidato giuseppe de leo veniamo alla cronaca e in questi giorni gli inquirenti le forze dell'ordine non sono state con le mani in mano anzi hanno controllato a fondo la città e hanno ottenuto diversi risultati tre giovani già soggetti a provvedimenti che non avrebbero dovuto essere nella città in quel momento sono finiti nei guai si tratta di un ragazzo marocchino di 19 anni denunciato mesi fa per aver rapinato un cameriere coetaneo al lido uno dei 23 anni dell'entroterra che l'estate scorsa si è reso protagonista di un'aggressione a un giovane fanese è un trentenne arrestato solo la settimana scorsa al termine delle indagini per i furti delle catenine e poi tra la vigilia di natale santo stefano i militari del norm di fano hanno sorpreso un trentenne fanese di origini tunisine alla guida della propria auto nonostante fosse ai domiciliari per una rapina e per il furto di tre collanine il 23 anni invece stava festeggiando il natale con gli amici in un esercizio pubblico nonostante fosse agli arresti domiciliari quindi sono stati tutti denunciati e ripresi ancora una volta stalker il libero per la condanna scatta il foglio di via preventivo nel 2021 l'uomo un 51enne campano siamo ora a colli al metauro diede fuoco all'auto della ex carbonizzandone altri due arrestato scontò due anni e quattro mesi i carabinieri hanno tenuto anche il divieto di ritorno a colli per tre anni e qua abbiamo la pagina di urbino ma per quanto riguarda la pagina di urbino prima di leggere gli articoli che sono su questa pagina diamo un'occhiata anche ai risvolti al drammatico incidente che si è verificato l'altro giorno nella bretella tra ferminiano e urbino ma che cosa ha causato il rogo mortale si interroga oggi il resto del carlino ci sono due ipotesi per spiegare la strage l'esplosione delle bombole d'ossigeno o la perdita di carburante alla base delle fiamme quanto allo schianto è probabile che il conducente dell'ambulanza sia stato colto da malore e quindi abbia invaso la corsia laterale dove sopraggiungeva questo pullman carico di bambini e l'impatto è stato inevitabile perché non c'era spazio per evitare l'ambulanza che procedeva in senso contrario lo scoppio delle bombole d'ossigeno presenti sull'ambulanza come presidi di soccorso o una perdita di carburante del mezzo causata dall'impatto con una successiva scintilla a innescare le fiamme questa è un po' la dinamica che viene ricostruita ebbene a urbino e a fossombrone è stato dichiarato il lutto cittadino sono state cancellate tutte le iniziative per la fine dell'anno e qua abbiamo anche una testimonianza dell'autista del bus e della corriera che è stato investito dalla ambulanza l'autista sotto sciocche una tragedia in mane e non chiamatemi eroe ho fatto il mio dovere ha avuto molto molto sangue freddo questo autista che non solo è riuscito con quello che poteva fare il minimo che poteva fare a evitare un impatto del tutto frontale in modo che almeno le porte del mezzo fossero apribili e quindi permettessero ai trasportati di uscire dal mezzo si tratta di massimo mariotti che ha messo in salvo 40 bambini e gli accompagnatori ho ricontrollato ha detto che tutti fossero usciti dal bus e poi sono scappato anch'io mi sono comportato come era giusto ma qui ci sono quattro morti ed è veramente terribile sono quattro morti che purtroppo piangono le famiglie ma non solo le famiglie ma tutta la comunità di urbino di fossombrone oserei dire della provincia di pesaro urbino attimo di terrore bravissimi i bambini un'altra testimonianza il racconto di uno dei parrocchiani che era appunto sul bus e poi ancora altri risvolti altri risvolti a questo terribile vicenda che è capitata proprio in un momento di festa di comunità di solidarietà del calore del natale che purtroppo si è raggelato di fronte a quanto avvenuto lo strazio al 118 in corsia parlavamo di figli e progetti ora siamo sconvolti per quanto è avvenuto per tutti i colleghi dell'autista dell'ambulanza che piangono la morte appunto di tanti persone non solo dell'autista ma anche dell'infermiera del medico e vediamo qui gli aspetti di queste tre vittime Sokol Okska medico di 41 anni e albanese era venuto in Italia faceva il medico ma sarebbe tornato presto in Albania e poi Stefano Sabatini autista di 59 anni di Fossombronia e Cinzia Mariotti infermiera di 49 anni residente a Cagli sono le tre vittime oltre al degente all'uomo che doveva andare all'ospedale si tratta di Alberto Serfilippi 85 anni non era grave doveva fare solo dei controlli all'ospedale di Urbino purtroppo non c'è mai arrivato ed è deceduto anche lui danni in due terzi del tunnel la riapertura della strada è un'incognita sopralluogo dei tecnici dell'ANAS necessari lavori ma sui tempi per ora non ci sono certezze e dobbiamo dire che la strada tra Ferminiano e Urbino chissà quanto verrà riaperta giriamo le torniamo anzi alle pagine di Urbino che abbiamo lasciato per vedere l'apertura e si parla del lutto che la città ha proclamato in merito a quanto avvenuto la decisione è stata presa dall'amministrazione comunale e dalla SCOM la SCOM è l'associazione dei commercianti della città ducale l'assessore Foschi inopportuna e stonata sarebbe stata la serata di divertimento se fosse stata autorizzata anche i gestori delle attività commerciali del centro concordano con il comune quindi un momento di austorità di lutto per tutta la comunità tiriamo ancora la pagina invece a Durbania è stata presentata la classica festa della Befana che si svolgerà dal 4 al 6 gennaio prossimo ci sarà una nuova Befana acrobatica che scenderà da grande altezza dal campanile della chiesa per distribuire poi dall'alto dolciumi e cioccolate a tutti i bambini ci sarà la possibilità di scoprire la casa della Befana più amata attraverso una visita guidata ma l'appuntamento che farà restare a bocca aperta in modo particolare i bambini sarà la discesa a cavallo della scopa della Befana che planerà tra grandi e piccini nelle vie della città e poi ancora giochi d'epoca alla scoperta del calderone magico passando per il garage delle scope insomma un po' tutto si riferisce ai simboli della Befana Cantiano, Cantiano riqualifica le vie del centro Gentilotti la mappa dei lavori è bene a parlare l'assessore del comune di Cantiano Filippo Gentilotti che entra nel merito degli interventi che verranno realizzati a partire dalla prossima primavera un intervento importante sarà quello di una nuova pavimentazione con lastre di arenaria si tratta della via 4 novembre che è la principale del paese prevedendo anche il rifacimento dei sottoservizi e in particolare del sistema di fognatura e acquedotto soprattutto anche una traccia per il passaggio degli cavi quindi per dopo oltre dicevo a rifare la pavimentazione si approfitta per fare i sottoservizi e questo è una grande opportunità che viene fatta per Cantiano a Cagli invece qui vediamo la fotografia del sindaco Alberto Alessandri messa in sicurezza di Santa Croce Cagli si aggiudica un bando e quindi sono nuove opportunità 312 mila euro interamente destinati all'opera di sistemazione dell'area di cui abbiamo detto ed ora apriamo il Corriere Adriatico torniamo sulla tragedia di Urbino l'esplosione innesca il drogo carbonizzati in pochi attimi i quattro morti in ambulanza accertamenti sulla dinamica il sindaco di Fossombrone dichiara il lutto cittadino così come ha fatto il sindaco Gambini il sindaco di Urbino e vediamo qui altre fotografie di questa tragedia qui vediamo l'infermiera vediamo il medico vediamo l'autista insomma tutti coloro che purtroppo hanno così perso la loro vita alla fine di quest'anno che di disgrazie veramente ne ha collezionate molte molte e qua abbiamo anche la foto di Cinzia Mariotti il medico e l'infermiera che era appunto a bordo dell'ambulanza il medico invece era l'albanese e qua vediamo la sua foto come sia potuto accadere perché un impatto violento ma non terribile ha trasformato l'ambulanza della potes in un ruogo che l'ha incenerita distruggendo anche la parte anteriore del pullman su cui viaggiavano i ragazzi veramente quello che è accaduto all'interno di questo tunnel è terribile perché poi tutto si è svolto in un ambito ristretto in un'atmosfera veramente infernale perché poi fumo fiamme urla insomma tutto quanto è stato veramente terribile e questo ne abbiamo già descritto l'abbiamo già parlato un lavoro sempre a rischio della vita Cinzia, Stefan e Sokol erano super dagli infermieri ai medici il monito a non sottovalutare i pericoli di chi opera nell'emergenza sanitaria e qui insomma si estende anche il discorso per rendere merito veramente a chi opera nel pronto soccorso cittadino perché è un servizio che presenta alcuni pericoli ma soprattutto è un servizio che serve alla comunità per salvare le persone ancora un risvolto di questa tragedia Massimo Massimo l'autista eroe dell'autobus fuggire dal retro la nostra salvezza l'incendio stava divampando davanti i ragazzini sono stati bravi a non farsi prendere dal panico è un'altra testimonianza di quanto accaduto e poi cambiamo argomento e vediamo come si parla di tutte le manifestazioni di Capodanno là dove non c'è il lutto cittadino Pesaro continua con il suo programma e vediamo che per divertirsi al Cater Capodanno il Comune ha imposto tre out-out sono questioni di sicurezza tante sono le ordinanze in vigore in Piazza del Popolo soprattutto dove si concentreranno i festeggiamenti per l'ultimo dell'anno a partire dal pomeriggio di domenica Mancano ormai poche ore al Cater Capodanno l'evento che aprirà anche l'anno straordinario di Pesaro 2004 come capitale italiana della cultura dal 17 al 31 dicembre dal 6 al 1 gennaio previsti il divieto di transito in Piazza del Popolo in Via Rossini in Largo Aldomoro in Largo Mamiani in Via dell'Arsenale in Via Gavardini ci sono poi altre vie che hanno dei nuovi sensi di marcia e anche dei divieti alla circolazione questo per fare così per permettere a tutti i pesaresi e anche coloro che verranno da fuori di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in tutta sicurezza Santa Colomba più dialogo con le famiglie un test premia l'accoglienza degli anziani Pandolfi, l'assessore ai servizi sociali del Comune di Pesaro presenta il nuovo comitato dei parenti che torna a gennaio più rappresentanti e più funzioni quindi più spazio a quello che è la base e per quanto riguarda Urbino possiamo segnalare che ci sono dei lavori nei due cimiteri anche se non tutti hanno pagato si parla del recupero del cimitero di San Bernardino e quello di Pieve di Cagna ha aderito solo la metà dei proprietari dei loculi al momento il sindaco Gambini già a luglio scorso dichiarò l'urgenza di intervenire per motivi di sicurezza e per il rispetto delle persone sepolte in luoghi in cui non vi era più traccia di copertura impermeabile insomma erano quelle zone degradate dei cimiteri impossibile per 440 titolari di loculi a San Bernardino e 105 a Pieve di Cagna trovare un coordinamento e quindi anche qui c'è ancora molto da lavorare vediamo l'apertura sulla pagina di Fano area ex Agip, aeroporto e piazze tutti gli interventi in ripartenza ci sono molti lavori pubblici in corso di esecuzione nella città di Fano che in questo momento hanno subito una sosta per le festività natalizie ma a partire chi dal 2 chi dall'8 gennaio riprenderanno tutte le attività a partire dall'area ex Agip per la quale l'assessore Brunori ha fatto una precisazione sì perché la superintendenza ha ordinato di riportare in sito la fontana che è stata disegnata dall'architetto De Renzi negli anni 30 però bisognerà vedere se questa fontana sarà trasportabile ora la soluzione è stata assegnata ad un perito ad un restauratore che dovrà certificare se si saranno danni in caso di rimozione della fontana che in questo momento si trova in via Nazario Sauro e ovviamente se questo non è trasportabile nella zona dell'ex Agip ci sarà una copia e così si ottempererà a quanto disposto dalla soprintendenza ma in realtà tutto rimane un po' così falsificato perché l'input della soprintendenza è stato un po' mal digerito un po' da tutti compresa l'amministrazione comunale abbiamo anche l'intervista firmata da Massimiliano Barbadoro a De Leo a fondopagina del Corriere Adriatico De Leo e i suoi programmi da sindaco nel settore dello sport cittadino anche lo sport fa parte della campagna elettorale la cronaca perseguita l'ex cacciato dal foglio di via prima applicazione della nuova norma e tutto quell'insieme di indagini che hanno eseguito gli uomini della sicurezza fanese e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti